Ciao ragazzi bentornati sul canale di mca mondo carriera allenatore io sono sempre andre e oggi ragazzi andiamo avanti con la nostra serie che avete richiesto abbastanza devo dire sui migliori giocatori ovviamente giovani under 21 sotto i 10 milioni di valore con più potenziale ovviamente ragazzi qua ci saranno giocatori diversi da quelli che abbiamo visto negli scorsi episodi perché vi ricordo che ce ne sono tantissimi sotto i 10 milioni quindi ragazzi se vorreste un altro episodio commentate ragazzi nel primo commento che vedete in evidenza iscrivetevi al canale e ovviamente attivate la campanellina ma noi direi di iniziare subito scusate un po' la voce ma sono leggermente raffreddato un po' di intasamento generale però insomma partiamo subito il primo è Harvey Elliott ragazzi giocatore del Liverpool che purtroppo quest'anno si è infortunato veramente grave grave gravemente insomma si è spaccato tutto praticamente sulla gamba sulla caviglia e quindi credo proprio che per quest'anno non toccherà più il campo da calcio ma quest'anno non intendo a gennaio intendo proprio quest'anno calcistico quindi fino alla fine del campionato purtroppo si stava facendo vedere veramente bene stava giocando bene stava trovando anche un po' di spazio perché comunque come vedete è un alla destra o un centrocampista centrale e devo dire che in questi ruoli Liverpool è ben fornito tra Salah e tutti i centrocampisti quindi sicuramente è stato un peccato questo infortunio giocatore che come vedete vale 7 milioni di valore e ha 28.500 come stipendio settimanale sicuramente questo giocatore potrete comprarlo così e rimarrà così il suo valore perché come è successo con Zagnolo l'anno scorso che dato l'infortunio non è stato né upgradato né downgradato il valore credo che rimanga questo quindi quando vorrete potrete acquistare questo giocatore super del Liverpool con 87 di potenziale c'è ragazzi da 73 a 87 con 7 milioni vi portate a casa un giocatore assurdo 4.4 piede debole e mossa abilità un mancino 1.70x64 kg molto ma molto veloce 80 di accelerazione 77 volita scatto 87 agilità 86 equilibrio per quanto riguarda poi le statistiche generali ragazzi è veramente un giocatore molto interessante soprattutto molto più offensivo che difensivo quindi come ADA va benissimo scusate come AD va benissimo ma come mezzala sappiate che è un giocatore tanto ma tanto offensivo vedete 32 è tutta la difensiva insomma non è proprio bravissimo a difendere in più tiro di precisione classe e tiro di esterno come caratteristiche speciali quindi sicuramente iniziamo col botto con Harvey Elliot siamo tanto ma tanto dispiaciuti per il grave infortunio che ha subito questo giocatore però per quanto riguarda l'aspetto videoludico e quindi di FIFA sicuramente è molto interessante perché il valore rimarrà questo il potenziale di base sarà ancora questo quindi ottimo ottimo Harvey Elliot il secondo ragazzi è un difensore centrale brasiliano del Benfica che si chiama Morato attenzione forse non tutti conoscono questo giocatore ad esempio io l'ho scoperto ultimamente difensore centrale molto molto interessante con 70 di overall ma 86 di potenziale vale 3.900.000 di valore quindi vale veramente poco 4.800.000 come stipendio settimanale e guardate qua di base 61 accelerazione e 64 verità scatto che non sono poco per niente ragazzi però 87 di forza 65 lettura difensiva contrasto in piedi 73 e anche dal punto di vista tecnico è veramente molto 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 forte con 62 passaggio lungo 63 passaggio corto 64 contro la palla e anche un 61 di dribbling quindi comunque ragazzi è 1.90 cioè è 1.90 per 88 kg veloce ottima forza bravo tecnicamente con anche passaggi lunghi come caratteristica speciale devo dire che è veramente un insieme di statistiche un insieme di capacità sia tecniche fisiche e tutto il resto molto molto forte che vale veramente poco perché vi ripeto vale quasi 4 milioni 3 milioni 9 come stipendio settimanale non prende praticamente niente un mancino interessante che potete mettere lì come difensore centrale a sinistra date le 2 di debole insomma non è proprio il massimo però per il resto ragazzi questo morato potrebbe essere un'ottima soluzione a 20 anni Nico Melamed ragazzi giocatore dell'espagnol spagnolo 20 anni che può fare l'esterno sinistro il trequartista o l'esterno destro 74 di overall con 86 di potenziale proprio come morato lui ragazzi è forte forte è vero 4 abilità 3 di debole ha 10 milioni di valore giusto giusto poi chiaramente è 23 milioni di clausola è ok però il valore ragazzi 10 milioni quindi se riuscite a contrattare bene sicuramente riuscirete a portarvela a casa guardate qua 84 accelerazioni 83 abilità scatto 84 agilità 84 equilibrio 75 divisione per il resto poi dal punto di vista tecnico sicuramente ha tutti i valori ottimi nel senso che non c'è nulla a parte il dribbling che spicca in più rispetto al resto però è veramente tanto equilibrato per avere 20 anni e in più tiro di precisione classe regista e derivatore tecnico come caratteristiche speciali insomma veramente questo Nico Melamed è un insieme anche lui commemorato di un'ottime statistiche e un ottimo insieme proprio a livello tecnico e tattico e anche di velocità soprattutto di velocità con anche ripetiamo le 4 abilità e le 3 di debole che per i ruoli che devo andare a ricoprire sono veramente oro Billy Gilmour ragazzi il ritorno nel nostro top di questo giocatorino che ora è al Norwich mi sembra non al Chelsea lo scozzese che ha fatto diciamo tutto l'academy e tutta la gioventù al Chelsea ora non mi ricordo se è in prestito o l'hanno comprato proprio al Norwich scusate l'apsus però è veramente molto forte anche lui perché è un 72 di overall con 86 di potenziale proprio come Melamed e Morato 3-3 abilità piedebole lui nasce come mediano puro ma una volta entrato nel calcio dei grandi uscito dalla primavera eccetera dove l'altezza e la forza fisica si alza notevolmente anche lui può fare la mezzala che sicuramente lo aiuta un po' di più 5 milioni e 5 di valore ok e attualmente viene in prestito quindi non ha comprato il Norwich è in prestito con 18 mila come stipendio settimanale le statistiche ragazzi sono da mezzala pura non tanto da mediano ma da mezzala pura assolutamente perché 71 accelerazione 76 agilità 74 visione 75 reattività dal punto di vista tecnico ragazzi è veramente molto forte 74 passaggio lungo 77 passaggio corto 74 controllo palla contro stimpiedi 73 lettura difensiva 68 vedete ha ottimi valori anche difensivi perché appunto nasce come mediano ma ragazzi come mezzala fidatevi che è veramente tanta ma tanta roba in più regista e passaggi lunghi come caratteristiche speciali potete anche azzardare a metterlo mediano ragazzi assolutamente però per l'altezza e il peso mi sembra un po' troppo esile per fare questo ruolo considerando appunto i giocatori e i giocatori che ci sono a livelli alti insomma no di forza fisica e prestanza quindi sicuramente è un'ottima mezzala hamed junior tra ore ragazzi questo giocatore del sassuolo che a me fa impazzire che ormai non è più così tanto giovane perché insomma l'abbiamo iniziato a vedere che aveva 18 anni un po' di anni fa e adesso ragazzi ne ha 21 quindi anche lui insomma non è più tanto junior diciamo così 73 di overall e 86 di potenziale per il ragazzo della costa d'avorio 3-3 è una stabilità piede debole un trequartista fenomenale con 7 milioni e 5 di valore 74 accelerazioni 73 avvita scatto 83 agilità guardate come è perfettamente bilanciato in tutto con anche potenza tiro 74 passaggio corso 74 controllo palla 75 passaggio lungo 70 finalizzazione 70 è veramente un giocatore completo in tutte le fasi e in tutti i ruoli soprattutto quello offensivo poi anche a livello difensivo fa qualcosina però insomma non è proprio un giocatore molto difensivo come vedete worker di attacco alto e di difesa medio quindi sicuramente è un ottimo giocatore offensivo e l'ultimo di questa top ragazzi è Romeo Lavia belga del Manchester City chi di voi conosce questo giocatore secondo me veramente pochi di voi 62 di overall con 85 di potenziale veramente una crescita esponenziale 3 di debole 2 massabilità per il mediano appunto del Manchester City un migliore di valore quindi siamo super in linea con il nostro budget giocatore molto difensivo worker di difesa alto e di attacco medio 1,80 per 75 kg quindi già è molto grosso diciamo così però ragazzi non è molto veloce sicuramente queste statistiche vanno un po' migliorate ma dovete prenderlo e guardarlo un po' così insomma da 17 anni insomma è stato appena giunto quindi non è che possiamo chiedere e sperare chissà che cosa però ragazzi devo dire che con 62 di overall avere già queste statistiche soprattutto lettura difensiva scivolata, contrasto in piedi, passaggio corto e passaggio lungo e soprattutto anche controllo palla per il ruolo che deve andare a ricoprire è ottimo poi sicuramente la velocità, l'agilità e soprattutto la forza fisica vanno migliorate e su questo non si discute però ragazzi può essere sicuramente un ottimo prospetto quindi ragazzi siamo arrivati alla fine anche di questo video spero che l'abbiate trovato interessante commentate ragazzi come vi ho detto all'inizio se vorreste un altro episodio iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, attivate la campanellina e noi ci sentiamo al prossimo video ciao ragazzi